Il Carnevale a Murata Gigotti. Tra le tante iniziative carnevalesche c'è anche questa. Anche quest'anno, infatti, la Proloco di Coppito, insieme al Centro Anziani Panella, ha organizzato un momento di allegria e festa, Coppito per il Marte di Grasso, come da tradizione. In Piazza Rustici, nella popolosa frazione, ci sarà una sfilata festosa con le maschere presenti. Prima della grande festa, a Murata Gigotti, un momento ludico e di festa, dove ognuno potrà dare sfogo liberamente alla fantasia e alla creatività, nello spirito tipico del Carnevale, in cui tutto sembra un po' concesso al ritmo di musica, con corriandoli colorati e stelle filanti.